Lei ha detto, peggio per voi, sono tornato in campo, ecco questa è la frase chiave. Sì, credo che sia così, hanno fatto di tutto per non farmi tornare. Mi hanno fatto decadere dal Senato, mi hanno prima fatto condannare ingiustamente, poi mi hanno fatto decadere dal Senato, poi mi hanno reso incandidabile per sei anni, ma purtroppo per loro io sono una vecchia quercia e sono sempre un combattente, un combattente per la libertà.